buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andiamo a vedere un progetto block chain che mira ad unificare tutte le block chain esistenti sto parlando di nervosa andiamo a vedere il suo funzionamento ovviamente dopo la sigla pagina ufficiale di nervos raggiungibile all'indirizzo nervos punto org ma che cos'è è una rete block chain per soluzioni di scalabilità con bridge cross chain per rendere la rete più economica scalabile e unire i diversi layer 2 è una rete block chain di protocolli open source il suo obiettivo è far comunicare le diverse block chain in modo veloce e semplice non solo vuole permettere la connessione tra ethereum o ad esempio bitcoin ma con tutti i protocolli che sono nati e nasceranno in futuro infatti uno dei problemi tra virgolette è che gli sviluppatori creano le proprie block chain o si uniscono a diverse block chain e gli utenti in base poi l'utilità vanno a scegliere quale block chain utilizzare nervos cerca di riunificare tutte questi protocolli tutte queste block chain in modo semplice veloce come ho detto al fine da permettere anche gli utenti di riuscire a interagire magari da un'unica posizione da un'unica block chain con tutte le altre e questo va anche a facilitare gli sviluppatori nella programmazione delle dapp con un linguaggio molto semplice è il trasferimento di dapp da block chain ad altre cambiare meglio uno sviluppatore che crea un ad app su ethereum vorrebbe anche vedere la sviluppata su cardano su solana su ios su tezos e così via e questo richiederebbe il triplo il quadro del lavoro per quanto riguarda lo sviluppatore sia in termini di programmazione ma anche di conoscenza dei vari linguaggi di programmazione delle diverse chain nervos propone la soluzione dove lo sviluppatore va a creare un'applicazione decentralizzata sulla rete nervos quindi su un'unica block chain e con un unico linguaggio di programmazione e l'applicazione in automatico sarà disponibile per tutti gli utenti che utilizzano cardano e tirion tezos ios e tutti gli altri tipi di block chain che sono riusciti a integrare all'interno di nervos block chain nervos è una block chain di livello 1 che utilizza un protocollo di consenso che si chiama proof of work nc max offre un troppo di dieci volte superiore alla rete di tirium e la soluzione di livello 2 che va a sviluppare lo aumentano ulteriormente una rete pensata per gli utenti e gli sviluppatori veloce economica e facile da utilizzare la nuova catena compatibile con le vm quindi un layer 2 compatibile con e tirium si chiama god weekend in realtà è un ottimist roll up che va a interagire con e tirium e funziona allo stesso modo in cui arbitrum e optimisti interagiscono con il protocollo di eti rium god walking permetterà agli sviluppatori di trasferire le applicazioni dalla rete tirium utilizzando un linguaggio di programmazione veramente user friendly per poi interagire con questa block chain è possibile utilizzare il nostro wallet non custodia al meta mask andando su meta masco una volta che è stato installato cliccando su rete principale aggiungerete si aprirà la solita schermata dove avete già visto diverse volte all'interno dei miei video e bisognerà andare a copiare questi dati all'interno di questo form una volta cliccato su salva ci troveremo su questa schermata dove ci va a indicare 0 ckb ckb e il token utility del protocollo della blog cene poi andremo a vederlo o più avanti e in questo caso non avremo settato correttamente meta mas che con la blog cendi nervos ovviamente bisogna detenere il token del protocollo per il pagamento delle fie per l'interazione con le depth di recente è stato lanciato anche un bridge forge bridge che permette l'interazione da diverse blog cene e tirion verso nervus nervos verso i tiro bsc nervos nervos bsc per poterlo connettere ovviamente bisogna avere installato meta mas che settato su nervos cene e correttamente settato anche con le blog cene con il quale vogliamo interagire per quanto riguarda i tiro meta mas che non ha bisogno della combinazione di nessun parametro perché nasce proprio sulla blog cendi tiro mente per nervos bianna smart cene tutte le altre cene bisogna compilare i form settarlo correttamente e detenere le valute di riferimento delle varie cene come pagamento delle fie per interazione con i diversi protocolli supponendo da avere meta mas che sulla rete di e tirion e volessimo trasferire dei token sulla rete nervos basta cliccare su select token questi sono tutti i token compatibili ovviamente da balance 0 perché non ho nessun token all'interno di meta mas che supponendo di voler trasferire gli aspetti si va a selezionare gli aspetti si va a selezionare la montare la cena di ricezione i tether che andremo a trasferire diventeranno s usdt bisognerà andare a inserire l'input si kb address corretto ed effettuare lo switch il minimo che possibile switchare sarà di 140 usdt nervos lavora con le più grandi block scene quindi integrerà anche le scene come solana cardano e via dicendo il team il token dovrebbe essere unico nel suo genere perché non è studiato per un solo utilizzo ma oltre a eseguire contratti intelligenti e far funzionare il network lo ritengono anche che sia una riserva di valore facilita le transazioni il network permette di adattarsi alla crescita della rete e aumentare neanche la sicurezza essendo un sistema di validazione pov alla validazione dei nodi i miner vanno a ricevere ricompense in si kb si kb e l'acronimo di si kb oltre alla funzione che abbiamo visto poco fa gli sviluppatori che vogliono utilizzare questo network caricare le loro da per sviluppare su questa blog cene devono detenere il token nativo del protocollo e se vogliono ad esempio caricare all'interno della blog chain 100 byte i dati su questo ecosistema avranno bisogno di 100 c kb quindi al crescere dell'ecosistema al crescere dell'utilità delle funzionalità degli sviluppatori all'interno di questo protocollo di questa blog chain crescerà di conseguenza anche l'utilizzo del token utility proprio come bitcoin a satoshi che sono le unità più piccole di bitcoin anche si kb ha delle unità più piccole che vengono chiamati shannon 100 milioni di shannon uguale a un si kb quindi anche si kb può essere frazionato esattamente come bitcoin è anche un token utility che ci permette di partecipare alla governance attraverso nervos dao è acquistabile sugli exchange migliori che conosciamo come bainas webb 3x gay punto io beat max beat forex mcx cripto puntocom q coin coinone it btc e diversi sono i partner e gli investitori abbiamo sequoia capital pollice in capital uobi blog chain capital multi con capital clip tape e bsn e la sezione nervos partner ed ecosistema potete vedere tutti gli sviluppatori l'infrastrutture e le applicazioni che sono già state create per quanto riguarda questo ecosistema e nell'ultimo periodo sta veramente sviluppando parecchio per quanto riguarda la sicurezza ha ottenuto ben quattro audit e potete andare a leggere i report direttamente attraverso il loro sito per quanto riguarda il team di nervos conta 86 persone all'interno del team presente in 14 paesi è nata nel 2018 all'interno del sito potete andare a vedere chi sono i founder e co founder gli sviluppatori andare a controllare le loro informazioni tramite linkedin github oppure twitter come sempre vi lascio analizzare la parte del team in autonomia twitter conta più di 92 mila follower quasi 20 mila utenti per quanto riguarda il canale di telegram e potete trovare nervosa anche su linkedin discord e facebook bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento e come sempre spero che video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile e interessante vi ricordo che questi non sono consigli finanziari assolutamente né sollecita all'investimento ma solo video educativi vi invito inoltre se vi piacciono i miei contenuti a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale e se avete bisogno di assistenza e di fare due chiacchiere insieme a noi abbiamo anche una community telegram che trovate il link in descrizione o nella home page del mio canale youtube come sempre vi ringrazio per l'attenzione per il vostro tempo vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto ciao ciao